Uomini e donne oggi, Angela se ne va, tutti contro Paolo Oggi uomini e donne, Angela lascia lo studio, Paolo la segue. . Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne vedremo come stanno andando le conoscenze di Paolo e Nicolò. Il primo fa sapere ad Angela che l'avrebbe portata in esterna, ma la corteggiatrice crede che l'atteggiamento del tronista sia solo un modo per perdere tempo e conoscere la rivale. . Crivellin non approva il comportamento della ragazza e lo dice a gran voce, tant'è che in studio scoppia una nuova lite tra i due. Lei dice di aver detto al tronista di voler uscire insieme a lui, ma Maria rivela che ha una sua precisa domanda, il diretto interessato ha risposto di non saper ancora scegliere. . Stufa, la caloisi inizia a pensare di lasciare la trasmissione. . L'esterna tra Crivellin e Marianna va bene. . Lui fa conoscere alla ragazza il suo cucciolo e la corteggiatrice ne è molto felice. . I due chiacchierano, scherzano e si trovano al loro agio. . Marianna chiede poi al tronista di poter restare per un po' senza le telecamere. . Alla fine, i due restano soli per ben 50 minuti. . Subito dopo aver visto l'esterna, Angela torna a confermare di voler andare via. . Giorgia si era eliminata, ma oggi viene mandato in onda il filmato di una sorpresa che la corteggiatrice ha organizzato per Paolo. . Lei confessa di aver capito di volerlo e alla fine riescono a trovare la giusta complicità, tant'è che arriva anche un dolce e appassionato bacio. . . A questo punto, Angela si alza e se ne va, ma Crivellin la segue. . Si passa poi a Nicolò Brigante. . Uomini e donne, Nicolò elimina Mena e litiga con Virginia. . La prima esterna di Nicolò è con Marta. . Il ragazzo si trova di fronte a due porte con scritti i nomi di Marta e di Virginia. . Lui deve scegliere in quale vuole entrare. . Le cose non vanno affatto bene e Marta decide di lasciare l'esterna prima del previsto. . In studio ci si rende conto che Lorenzo sta fissando Virginia e questo fa sì che si dia inizio ad un nuovo battibecco. . . Il corteggiatore non nega, anzi ammette e si preoccupa per chi invece non la guarda. . Virginia non è andata in esterna con Brigante perché non ha gradito l'atteggiamento del tronista. . . La ragazza non ci sta a farsi dire che è solo estetica e niente contenuto. . L'uscita con Mena va male e lui oggi la elimina. . . .